A partire da oggi potrebbero farsi sentire gli effetti di una delle più importanti tempeste solari degli ultimi 5 anni che si è verificata a Marte di notte. L'ondata di particelle elettromagnetiche che ha colpito la Terra alla velocità di 6,4 milioni di chilometri orari rischia di causare disturbi ai sistemi satellitari.